Una pizza napoletana nella suggestiva cornice di punta Elbronner a 3500 metri di quota, un'iniziativa singolare dell'Accademia Italiana della Pizza. Come vi è venuta questa idea? L'idea nasce per portare sempre più in alto il Made in Italy, qual è il prodotto rappresentativo del Made in Italy per eccellenza, oltre la pasta, la pizza. Quindi portarla in alto, siamo in Italia, la detta più alta non solo d'Italia ma d'Europa, il Monte Bianco, la portiamo il più alto possibile dove riusciamo comunque ad arrivare, dove riusciremo ad arrivare. Preparare una pizza in pianura e trasportarla sul tetto d'Europa. L'idea è dell'Accademia Italiana della Pizza, detto, fatto, forno a legno acceso in un locale in Regione Americ e pizzaiolo in azione. Allora, ho provato una semplice pizza margherita, con pomodoro san marzano, cerdilatte campano, un po' di basilico, olio e extravergine di oliva. La tradizione partenopea? La tradizione partenopea come la preferisci. La trasportiamo con questa antica stufa napoletana, che una volta, tanti anni fa, si venivano messe le pizze dentro e vendute per strada. Quindi questa qua, insomma così, Quindi questa qua la prendiamo, calda, la mettiamo dentro, mettiamo questa su e ce la portiamo dentro. E tenuta al caldo nel contenitore in rame della tradizione partenopea, la pizza è arrivata fino a Punta del Bronner. Benvenuti dalle guide alpine di Courmayeur a Punta del Bronner a 3466 metri. Le Guinness World Record! La pizza napoletana a 3466 metri al Monte Bianco. Per la prima volta nella storia della pizza.